Secondo giorno di festeggiamenti per i mille iscritti, secondo giorno di mitologicamente Pokémon. Dopo la prima generazione storica di Pokémon, oggi analizziamo la seconda, andiamo nella regione di Ioto e analizziamo i nuovi Pokémon introdotti dopo il grande successo della prima generazione. Quindi, bando alle ciance e sigla! Typhlosion, ultimo stadio evolutivo di Syndaquil, parliamo anche qui di uno starter di fuoco che già vi anticipo in ogni generazione sarà lo starter di fuoco da avere origini mitologiche. In realtà non avrebbe vere e proprie origini mitologiche, solo che c'è una strana combinazione di eventi per il suo nome. Infatti Typhlosion sarebbe ispirato all'animale esistente Echidna, una specie di istrice, ma si chiama tipo Tifone. E nella mitologia greca, Tifone ed Echidna erano il padre e la madre di tutti quanti i mostri. Passiamo da Pokémon 157 al 166, ovvero Ledian, per le cui caratteristiche fisiche ci si è ispirati agli alieni grigi, anche perché questo Pokémon trae forza la luce delle stelle e della luna. Pokémon 171, Lanthorn, ha le sembianze di un delfino che porta la luce perché dovrebbe essere una rappresentazione del dio Apollo. Infatti l'animale è il simbolo di Apollo tra gli altri, gli era comunque il delfino. Pokémon 176, Togety, che è l'evoluzione di Togepi, potrebbe ricordare una figura angelica oppure più comunemente una fata. Pokémon 178, Xatu, l'evoluzione di Nato, è questo Pokémon uccello che potrebbe ricordare i classici totem dei nativi americani combinati anche ad una credenza riguardo alla meditazione che dice, se si rimane per tanto tempo fermo in meditazione si riesce anche a guardare indietro e avanti nel tempo, un po' come fa Xatu. Pokémon 179, Marip, potrebbe ricordare Crisomallo, ovvero la pecora che poi produsse il vello d'oro cercato da Jostroone e gli Argonauti. I-Pom e la sua evoluzione, ambi-Pom invece sono basati su una creatura del folklore azteco chiamata Awitzotl, che sarebbe un essere dotato sì di due mani prensili come noi esseri umani, ma di un'altra mano, una terza mano aggiuntiva sulla punta della sua coda. Pokémon 196, Espeon, una Involution, dovrebbe ricordare il classico Bakeneko o addirittura Nekomata, biju giapponese che ha appunto una due code, come Espeon ha una coda biforcuta. Pokémon 197, Umbreon, altra Involution, per i suoi motivi sulla pelliccia potrebbe ricordare i classici ornamenti egiziani. Per questo fatto dovrebbe essere ispirato o addirittura ad Anubis, oppure alla rea gatto Bastet. Pokémon 198, Markrow, nella sua forma, nella sua silhouette dovrebbe ricordare una strega in volo sulla sua scopa. Pokémon 200, un Pokémon fantasma, Misdrebus, che pare metta Urlis Cassatinpani in continuazione, e in questo dovrebbe assomigliare alle Banshee del folklore della Gran Bretagna, oppure potrebbe ricordare uno Yokai giapponese. Nuke Kubi è infatti una testa fluttuante che va in giro a decapitare la gente. Pokémon 206, Dunsfars, dovrebbe ricordare il serpente leggendario giapponese Tsuchinoko. Pokémon 208, Styrix, evoluzione di Onyx, anche lui ricorda più o meno un Wyrm. Pokémon 215, Sneasel, questo Pokémon, visto che è dotato di lame affilate, come Artigini in pratica, ha le sue origini molto probabilmente nella figura di Yokai chiamato Kamaitachi, una specie di donno, la spirito giapponese, che riesce con il suo vento a tagliare qualsiasi cosa incontra sulla sua strada. Pokémon 218 e 219, Slugma e Maccargo dovrebbero ricordare la creatura cinena chiamata Kerufe, che è una creatura malvagia che si nutre di magma e vive nei vulcani, appunto, in Cile. Pokémon 225, Delibird, è Babbo Natale, si vede. 227, Pokémon di nome Scarmory, potrebbe essere ispirato all'Alicanto, un uccello sempre della mitologia cilena, che si nutre di oro e di argento, ma anche potrebbe essere ispirato dalla mitologia greca, ovvero dagli uccelli della palude Stimpalo. Pokémon 228 e 229, Aundur e Aundum, la sua evoluzione, sono ovviamente ispirati a tutti i Segugi infernali che riuscite a trovare nelle varie mitologie, come Cerbero, Garmen nella mitologia norrena, eccetera, eccetera. Kindra, evoluzione di Sidra, aggiunti in questa generazione, non ha proprio un'origine mitologica, è un Pokémon drago, ma non assomiglia molto a un drago più a un Ippocampo, però ha la capacità di creare potenti vortici e per questo potrebbe essere assimilabile alla figura di Kariddy. 238, Smoochum, pre-evoluzione di Jinx, non è ispirata a uno spettro alla Yukion, bensì al Kintaro, una figura sovranaturale di bambino dalla forza sovraumana. Passiamo ai Pokémon leggendari di questa generazione. Raikula, bestia leggendaria del Fulmine, dovrebbe essere anch'essa ispirata a Raichu, il bijuto delle sei code. Pokémon 244, Entei, la bestia leggendaria cane di fuoco, è ispirato anche lui allo Shinxial, prototipo di cane leone da guardia, a cui è ispirato anche Growlite e Arcanine. Pokémon 245, l'ultimo del trio delle bestie leggendari, Suicum, per la sua abilità di pulificare le acque, dovrebbe ricordare l'omologa abilità che hanno gli unicorni. 248, un Pokémon che adoro, Tyrannitar, l'ultimo stato evolutivo di Larvitar, dovrebbe ricordare non una creatura diciamo proprio leggendaria nel vero senso del termine, ma il Kaiju più famoso di tutti, Godzilla. Pokémon 249, il leggendario Lugia. Lugia è ispirato paresemente a Ryu Jin, il drago marino che costantemente viveva nei fondali marini e che era il signore di tutti gli oceani nella mitologia cinese-giapponese. L'ultimo Pokémon con origini mitologiche in questa generazione è il leggendario uccello Oh-Oh, che come dice anche il suo nome, è stato di semplice riportare all'interno del mondo Pokémon l'omonima Fenice Orientale, che non è uguale a quello occidentale, ovvero persiana, anzi, che risorge dai propri ceneri, ma questo uccello dalle strane sembianze multialimali con penne multicolore, color dell'arcobaleno. Bene, e con questo anche la seconda generazione si chiude. Questa è l'origine mitologica dietro ai Pokémon di questa seconda generazione creata da Ken Sugimori. Io spero che il video vi abbia interessato, vi ringrazio per tutte le visualizzazioni, come se mi piace, come se tutti gli altri video, per tutti gli iscritti che stanno arrivando e noi ci vediamo domani con la terza generazione di Pokémon e se ne vedranno per davvero di belle stavolta, proprio ce ne saranno tantissimi e non so come fare, ma lasciamo perdere. Comunque ci vediamo domani con la terza generazione. Bye!